7 milioni di euro per garantire un fiume sicuro e una città protetta. Ammonta tanto l'investimento complessivo della provincia di Grosseto per gli interventi sull'argine destro dell'ombrone nelle immediate vicinanze del centro abitato. Tre i cantieri attualmente aperti che interessano 3,5 km di argine. I lavori sono ormai in stato avanzato. Un primo lotto sarà completato ai primi di settembre, un secondo invece a fine novembre. L'ultimo stralcio poi, le cui opere sono state avviate nello scorso aprile, sarà completato nel giugno del 2015. Questo è un intervento che è 3,5 km di argine che viene messo ulteriormente in sicurezza e che con una tecnica che riguarda sostanzialmente la posa di tutta una serie di strati ci consente sicuramente di evitare intanto tutta la creazione di fontanazzi che erano stati un elemento di grossa preoccupazione precedentemente. In questo senso c'è sicuramente un miglioramento, ovviamente rischio zero non ce n'è, però questi 7,5 milioni sono stati finanziati dalla regione tostaccana che si vanno ad aggiungere a interventi precedenti, ci consentono di garantire ulteriore sicurezza per quanto riguarda tutta la città di Grosseto.